Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro quel video. Oggi sono qui per parlarvi di un altro caso nostrano. Questa storia a mio parere è parecchio triste, perché questo è davvero un delitto senza un movente valido. E la cosa peggiore è che la vittima ha appena 14 anni. Oggi, in questo video, voglio parlarvi del caso di Desiree Piovanelli. Questa storia inizia sabato 28 settembre 2002, quando verso le 19 fa il suo ingresso nella caserma dei carabinieri, una coppia. Per l'esattezza, un padre e una madre. Sono dei carabinieri perché Desiree Piovanelli, loro figlia 14enne, è scomparsa da circa un paio d'ore. Ma che cosa è successo? Ebbene, Desiree, quel sabato 28 settembre 2002, esce di casa nel primo pomeriggio per andare a studiare da un'amica. La ragazza frequenta il primo anno del liceo scientifico Pascal. E ovviamente i suoi genitori sono parecchio preoccupati. I carabinieri però dicono ai genitori di Desiree di non preoccuparsi troppo. Può capitare che una ragazza torni a casa più tardi del previsto. D'altronde, è quella l'età in cui si fanno pazzie. Inizialmente gli inquirenti pensano a tutte le soluzioni possibili, tranne che a quella più estrema. Provano anche a chiedere ai genitori di Desiree se quest'ultima per caso aveva un fidanzato. Magari questo fidanzato era anche più grande? Sarebbe potuta fuggire con lui. Una fuga d'amore quindi. I carabinieri rassicurano i signori Piovanelli. Non è necessaria una denuncia. In quanto sicuramente loro figlia, entro qualche ora, avrebbe di nuovo varcato la porta di casa. I genitori di Desiree però non è che siano poi così sicuri. I carabinieri sostengono che Desiree potrebbe essersi trattenuto un po' più a lungo con qualche sua amica. O ancora che sia in compagnia di un ragazzo. Il punto è che questo non è da Desiree. Non è solita non rientrare negli orari previsti. Non è solita tardare. E se tarda, non manca immediatamente di chiamare a casa i suoi genitori per avvisare. Nel frattempo passano le ore e da due diventano tre. Di Desiree non c'è neanche l'ombra. Quindi alle 20 e 20 di sabato 28 settembre viene verbalizzata la denuncia di scomparsa di Desiree Piovanelli. I genitori quindi iniziano a raccontare agli inquirenti il pomeriggio di Desiree. Che cosa ha fatto? Desiree torna da scuola quel sabato 28 settembre alle 12 e 30. E pranza con i suoi genitori. Chiacchierano del più del meno. Desiree spiega ai suoi genitori come è andata la sua giornata a scuola. Poi arrivano alle 13 e 30. Desiree si dirige in camera sua. Dove fa i compiti. Fino alle 14 e 30. Alle 14 e 30 Desiree scende in salotto. Accende la televisione e guarda per mezz'oretta la tv. Alle 15 in punto è pronta per uscire. Ai suoi genitori Desiree dice semplicemente che deve andare a studiare da un'amica. Cosa che peraltro accadeva molto spesso. Arrivano alle 17 e 30. E la madre di Desiree, Maria Grazia, prova a mettersi in contatto con lei. Ma il suo telefono risulta non raggiungibile. Quindi le tracce di Desiree si perdono dal momento in cui esce di casa alle 15 di quel sabato pomeriggio. Ma dov'è finita Desiree? È stata rapita? Da chi? I carabinieri ben presto capiscono che Desiree non si è allontanata da casa volontariamente. Di conseguenza partono immediatamente le ricerche. Sono coinvolti i poliziotti, cani e altre forze speciali per riuscire a ritrovare questa ragazza. Però purtroppo le ore passano. Giunge l'alba e di Desiree non c'è nessuna traccia. Ma durante il mattino successivo arriva un messaggio sul cellulare del fratello di Desiree, Ivano, che dice testuali parole. So che è stato in pensiero, ma non preoccupatevi. Sto bene, non torno a casa. Ora sto con Tony. Questo messaggio fa davvero pensare ad una fuga d'amore. I genitori di Desiree tirano un mezzo sospiro di sollievo. Pensando che in effetti loro figlia abbia fatto una pazzia. Ma almeno sta bene. Non è stata rapita. Non le hanno fatto del male. Purtroppo la semi-tranquillità dei genitori di Desiree svanisce in fretta. In quanto quello si rivela un messaggio finto. E non risulta neanche inviato dal cellulare di Desiree. Questo si chiama depistaggio. E se c'è la necessità di creare un depistaggio, è sicuro. È accaduto qualcosa di brutto. Sono ormai passate 24 ore dalla scomparsa di Desiree e non ci sono novità. Non ha provato a mettersi in contatto con la famiglia. E a questo punto tutti quanti ne sono certi. Desiree Piovanelli non si è allontanato da casa volutamente. Ma che cosa diavolo le è successo? Arrivano lunedì, poi martedì. Le ricerche per ritrovare Desiree si fanno spasmodiche. Battono tutte le campagne e tutti i corsi d'acqua. Arrivano fax e telefonate ai genitori e agli inquirenti che addirittura la segnalano al sud Italia. Queste però purtroppo si rivelano sempre false piste. Per questo caso pare non ci sia una spiegazione. Per la scomparsa di Desiree pare che non ci sia una spiegazione logica. E quindi in quel comune bresciano, leno, iniziano a diffondersi delle voci davvero terribili. Tutti dicono di tenere d'occhio il padre di Desiree, il signor Piovanelli, perché sostengono sia un uomo un po' strano. E ahimè, per i carabinieri queste voci non fanno che accreditare un'ipotesi tremenda. È stato il padre di Desiree a farla fuori. Le ragioni non sono assolutamente chiare. La stranezza della famiglia Piovanelli agli occhi del paese sta nella loro fede religiosa in quanto appartengono al gruppo dei testimoni di Geova. Questo ha creato e continua a creare diverse perplessità nel paese. C'è chi deride le abitudini di questo gruppo religioso davvero molto molto spesso. Intanto per i carabinieri ovviamente ogni pista è buona perché non ne hanno una delineata. Sono in alto mare, non capiscono chi possa essere il colpevole. Ma di una cosa sono certi. A distanza di quattro giorni dalla scomparsa di Desiree non c'è nulla che possa far pensare a un dramma familiare. Gli inquirenti inoltre hanno un'ennesima certezza, o meglio hanno un indizio. Quell'SMS fa al suo arrivato a divano. Il fratello di Desiree può essere localizzato. Seguendo i tabulati telefonici infatti gli inquirenti scoprono che il messaggio è stato inviato alle 8.46 di domenica 29 settembre 2002. Quel messaggio è partito da una cabina telefonica di leno abilitata a mandare gli SMS. Qualcuno utilizzando una scheda telefonica prepagata ha mandato un messaggio al fratello di Desiree. Da Via Ermengarda che dista appena 300 metri da casa dei Piovanelli. Gli inquirenti quindi decidono di indagare più a fondo e scoprono che quella scheda prepagata è stata smarrita da una signora a Jesolo. Quella signora per l'esattezza abita a Trieste e quella scheda l'ha smarrita al lido di Jesolo il 22 agosto del 2002. È necessario dunque cercare qualcuno che potesse essere il 22 agosto a Jesolo e il 29 settembre alla cabina telefonica di leno. Gli inquirenti ovviamente passano a setaccio centinaia di nomi. Poi il pomeriggio del 3 ottobre riescono ad isolare un nome. Nicola Bertocchi, un vicino di casa dei Piovanelli. Nicola ha 16 anni, non va più a scuola e fa il muratore. A Jesolo in effetti Nicola ha trascorso le vacanze estive con i suoi genitori ed è qui che si crea il collegamento. La scheda prepagata persa a Jesolo e la figura di Nicola che abita vicino a casa di Desiree apre una pista. Una pista che finalmente è possibile percorrere. Nicola sa qualcosa della scomparsa di Desiree oppure è un ragazzone immaturo che si è divertito a mandare messaggi falsi? Da quello che si racconta a leno Nicola è un ragazzo difficile ed ha un temperamento parecchio ribelle. Non ha avuto un successo particolare con gli studi quindi ha iniziato a lavorare come manovale. A questo punto il ragazzo viene convocato in caserma e nel tardo pomeriggio di giovedì 6 ottobre inizia il suo interrogatorio. Il magistrato che interroga Ricola si rende conto che non sarà facile ottenere delle risposte. Infatti Nicola nega di avere qualcosa a che fare con la scomparsa di Desiree. Ammette però di aver inviato quello stupido sms a Ivano, il fratello di Desiree, ma non sa spiegare il reale motivo di quel gesto. Lo descrive come uno scherzo, una stupidaggine. Il magistrato però non molla, riempie di domande Nicola, passano le ore. E circa a metà della notte il magistrato concede a Nicola una pausa. Nicola a questo punto viene accompagnato in un'altra stanza in cui c'è dell'intercettazione ambientale. E... ma Nicola non lo sa. Incontra suo padre dopo molte ore di interrogatorio, quindi parla con lui ed è evidente che quel ragazzo si è agitato. Nicola, per la prima volta, dice a suo papà tutta la verità, o almeno parte della sua verità. In preda di uno scatto nervoso, infatti, Nicola dice di essere lui il colpevole. È stato lui a far fuori Desiree. A questo punto l'interrogatorio riprende e il ragazzo capisce che la sua bella sceneggiata non sta più in piedi. È finita, quindi ammette al magistrato la sua colpa. Racconta, infatti, che lui e Desiree si sono incontrati in un posto isolato sabato pomeriggio. Desiree, però, quell'incontro non l'ha organizzato per stare con lui. L'ha organizzato per prenderlo in giro. Poi, a quanto dice Nicola, arriva addirittura a tirar fuori un coltellaccio per colpirlo. Desiree. Il ragazzino sostiene che per difendersi ha dovuto per forza farla fuori. All'alba di venerdì, 4 ottobre, Nicola porta il magistrato e i carabinieri nel posto in cui si trova Desiree. Desiree si trova presso la cascina Ermengarda, una casa diroccata che si trova appena fuori il centro di Leno. Quindi, quando gli inquirenti arrivano sul posto e trovano il corpo della povera Desiree, rimangono davvero senza parole. La ragazzina è a primo piano, seminuda, a terra, in un lago di sangue. A terra, nella stessa stanza, sulle scale, sui muri, ci sono evidenti tracce di sangue che provano una forte resistenza da parte di Desiree. Ha lottato con le unghie e con i denti per tentare di salvarsi. Il suo corpo presenta varie escoriazioni e davvero 4 ferite terribili. Dei veri e propri tagli da scannatoio. Sulla scena del delitto sono ben visibili i segni di trascinamento della povera ragazza. Inoltre, ci sono ovunque fascette autobloccanti perfette per immobilizzare qualcuno. Inoltre, perché mai così tanta violenza per una semplice autodifesa? È chiaro che ci sia qualcosa che proprio qui non torna. Ovviamente il magistrato riferisce queste perplessità a Nicola. Ed ecco che un altro pezzo del suo grande castello di bugie cade. Nicola a questo punto ammette che il coltello l'ha acquistato in un supermercato di leno prima del crimine. Subito dopo quindi porta gli inquirenti ad un'altra cascina distante 2 km circa dal luogo del delitto dove vengono ritrovati degli oggetti sicuramente appartenuti a Desiree Piovanelli. Inoltre, viene anche ritrovato il coltello usato per colpire la ragazza. Quindi gli inquirenti hanno in mano anche l'arma del delitto. Le scoperte fatte dagli inquirenti emergono. E ahimè non ci vuole molto, la notizia si diffonde in men che non si dica. Tutte le ragazze del liceo Pascal, la scuola che frequentava Desiree, in brevissimo tempo scoprono che fine ha fatto la loro amica. La loro amica non c'è più. È stata uccisa. È stata uccisa da un suo vicino di casa. Le domande però anche in questo caso di certo non mancano, perché Desiree e Nicola erano per caso stati insieme? Quindi, Nicola ha colpito per gelosia? Tra le bocche di leno ecco che si sparge un'altra voce. Desiree era una ragazza facile. Ecco perché ha fatto quella fine. Ha tirato troppo la corda. Ha deluso un ragazzo che non ha sopportato la sua presa in giro. Poi però arriva il settimanale panorama, che smonta ogni voglia di gossip sentimentale, pubblicando alcune frasi, specialmente una frase, che ha scritto Desiree nel suo diario di scuola. Ossia, fare attenzione a Nicola è pericoloso. Nicola è pericoloso, sì, ed il corpo di Desiree lo dimostra per lui. Il ragazzo però parla poco, troppo poco, e gli inquirenti sono convinti che stia nascondendo qualcosa, che non stia dicendo tutto, insomma. È così che la sera del 4 ottobre, qualche ora dopo aver fatto ritrovare il corpo di Desiree, Nicola fa il nome di un altro ragazzo, Mattia Franco. Era presente anche lui alla cascina Armengarda. Ma chi è questo Mattia Franco? Ebbene, Mattia Franco non è nient'altro che un ragazzino, perché ha compiuto da pochi mesi 14 anni. Davanti agli inquirenti, molto insicuro, far fuglia di non sapere nulla della dipartita di Desiree. Però, gli inquirenti capiscono in breve tempo che la sua versione trema in un poco, esattamente come le parole che pronuncia. Inizialmente Mattia è un po' perplesso, non racconta tutta la versione, alla fine però crolla e lo ammette. Quel maledetto sabato c'era anche lui in quella cascina. Racconta, dicendo esattamente queste parole. Quando sono arrivato sono entrato dal retro e sono salito dalle scale. Ho visto Desiree, che aveva degli ematomi sul volto. Insieme a lei c'erano Nicola e Nico. Dunque, dunque, Mattia fa il nome di un terzo ragazzo. In paese tutti lo chiamano Nico. Il suo nome è Nicola Vavassori, ed è un amico dei ragazzi 15enne. Ho preciso che purtroppo non sono riuscita a trovare nessuna foto dei tre minorenni che hanno partecipato a questo delitto. Probabilmente perché per l'appunto erano minorenni. Non sono neanche riuscita a trovare delle foto attuali. Quindi, magari errore è mio, ma io non ho trovato nulla da nessuna parte. Se voi invece avete trovato queste foto e avete voglia di linkarmele qui sotto nei commenti, io ne sono molto molto felice. C'è un fatto, però. Il racconto di Mattia non inizia dal sabato del delitto, ma da due giorni prima. È la sera di giovedì 26 settembre. Nicola, Mattia e Nico stanno chiacchierando come al solito seduti su un muretto. Si parla di Desiree e Mattia sostiene di aver sentito dire a Nico Io me la voglio portare a letto, sono disposto anche a fare violenza su di lei. Anche Nicola inizia a ripetere frasi di questo tipo, seguendo a ruota Nico. A Nicola, come a tutti quei ragazzi, piace Desiree. Sicuramente è una bella ragazzina, tutti sono attratti da lei, tutti vogliono Desiree. Poi però arriva un giorno e quel giorno arriva una notizia che butta giù di morale tutti quanti. Desiree, a quanto pare, ha un fidanzatino. È proprio questo fatto che scatena un'incredibile gelosia in loro. Ormai Desiree è letteralmente diventata la loro ossessione. Di conseguenza l'obiettivo di tutti e tre i ragazzi è quello di fare violenza intima su Desiree. Mattia racconta che quella sera di giovedì Nicola ha organizzato un piano per portare con l'inganno Desiree alla cascina Hermengarda col fine di fare violenza su di lei. Due giorni dopo, il pomeriggio di sabato 28 settembre, i tre ragazzi sono pronti. Si procurano un coltello e del materiale per legare Desiree. Però anche nel racconto di Mattia in effetti ci sono diverse ombre. Gli inquirenti hanno la sensazione che nasconda ancora qualcosa. Ma intanto sperano di ottenere nuovi particolari dal terzo ragazzo del gruppo, ossia dal quindicenne, Nico. Nico si rivela il più duro dei tre ragazzi. Durante le indagini non rivela assolutamente niente. Arriva il 9 ottobre e il giudice per le indagini preliminari convalida le ordinanze di custodia cautelare per due dei ragazzi che a un certo punto hanno confessato tutto tra le lacrime. E vi sto parlando di Mattia e Nicola. Ma... C'è un ragazzo dei tre che non dice proprio nulla. Anzi, nega ogni cosa. E vi sto parlando di Nico. Per Nicola e Mattia l'accusa è di omicidio volontario premeditato con l'aggravante dei futili motivi. Subito dopo l'arresto alla storia raccontata da Nicola e Mattia e negata da Nico si aggiunge un'altra informazione. Ancora una volta è Mattia il più piccolino del gruppo a parlare con gli inquirenti. Quindi Mattia agli inquirenti dice questo. Quando sono arrivato e sono salito all'interno della cascina ho potuto notare che c'era anche un ennesimo uomo decisamente più grande. Quello è uno che non scherza. Infatti ci ha minacciati di non dire niente. Eravamo terrorizzati sapendo che era sempre ubriaco la sera che era violento e che possedeva una pistola. Quindi in quella cascina quel dannato sabato è presente un'ennesima persona un uomo però non un ragazzo si chiama Giovanni Erra. A 36 anni lavora in una fonderia è sposato e ha un figlio di 8 anni. Gli inquirenti ovviamente vanno a prenderlo la sera stessa in cui avviene il racconto di Mattia. E indovinate anche questo Giovanni Erra abita vicino a casa di Desire Piovanelli. Ma cosa c'entra quindi Giovanni Erra con quei ragazzini? Può aver avuto un ruolo attivo nel delitto? E se invece questa fosse solo e soltanto una bugia di Mattia? I dubbi ci sono però poco dopo anche Nicola conferma il racconto di Mattia. Anche Giovanni Erra era presente durante il delitto. Gli inquirenti a questo punto fanno un'analisi approfondita dei rapporti che legano Giovanni Erra a Nicola Bertocchi Mattia Franco e Nico Vavassori. Ben presto si scopre che Giovanni Erra è visto come il fratello più grande dei ragazzi che in effetti sono considerati un po' dei ragazzacci dei ragazzi di strada. Giovanni Erra spesso gioca con loro in strada gli offre da bere al bar e proprio col fine di stupire Nicola Nico e Mattia è Giovanni a proporre di far qualcosa a Desire Piovanelli una ragazza chiaramente ammirata da tutte e tre i minori questo Giovanni Erra lo sapeva è per quello che ha nominato proprio Desire Piovanelli in un'altra ragazza. Inoltre Mattia sostiene che Giovanni Erra in più occasioni si è vantato con lui e i suoi amici di essere oggetto di attenzioni da parte di Desiree. Insomma dice che Desiree si dimostra disponibile per fare con lui delle cose intime pensate che Giovanni Erra inizia a raccontare al gruppo di ragazzi che avrebbe lasciato la moglie proprio col fine di scappare con Desiree Giovanni si sente un grand'uomo vedendo il senso di invidia e inferiorità che questi racconti dipingono sul volto di Nicola Nico e Mattia però quando la sera del 12 ottobre 2002 gli inquirenti interrogano Giovanni Erra non hanno certo la sensazione di avere dinanzi a loro un grande uomo Giovanni fa l'operaio è un uomo profondamente immaturo parla un italiano dialettale beve molto e quando può assume pure Coca Cola il PM chiede a Giovanni delle chiacchiere che ha messo lui stesso in giro riguardo un possibile flirt tra lui e Desiree i due che rapporto avevano realmente ed ecco che si scopre che il racconto che Giovanni ha messo in giro è un'enorme balla il PM quindi passa ad una domanda decisiva chiedendogli se è il corrente del delitto di Desiree Giovanni inizialmente dice di non saper nulla del delitto sostiene proprio di non essere mai stato in quella cascina non sa assolutamente nulla ma ovviamente gli inquirenti non sono soddisfatti quindi continuano a tempestarlo di domande fino a quando Giovanni inizia a confessare qualcosina inizialmente dice di essere andato alla cascina ma quando lui è andato la mattanza era già compiuta Giovanni domenica 29 settembre sostiene di essere andato alla cascina e di aver trovato il corpo di Desiree al primo piano per terra ciò che ha visto però l'ha spaventato perché ha visto così tanto sangue che è tornato a casa ad ubriacarsi ma qui c'è una domanda che sorge spontanea perché l'uomo al posto di ubriacarsi non è andato dai carabinieri a denunciare il fatto Giovanni si difende dice che aveva paura a parlare agli inquirenti però la sua versione non torna poi ci sono anche le testimonianze di Mattia e Nicola che collocano Giovanni in quella cascina durante il delitto dopo aver arrestato anche Nico l'ultimo dei ragazzi minorenni scattano le manette anche per Giovanni Erra è l'11 ottobre del 2002 è accusato di concorso in omicidio aggravato dai futili motivi e premeditato la moglie cerca di difendere Giovanni in ogni modo infatti va a parlare con gli inquirenti sostenendo che sabato Giovanni era a casa con lei almeno fino alle 17 sostiene di essere uscita di casa più o meno per le 17.30 e in quel momento suo marito stava dormendo perché era tornato a casa da lavoro davvero davvero stanco quindi Giovanni dovrebbe avere un alibi di ferro ma gli inquirenti sentono che anche qui c'è puzza c'è qualcosa che non torna mettono quindi delle micro spie nella macchina di Giovanni tramite delle intercettazioni ambientali scoprono che in realtà la moglie di Giovanni non è poi così sicura di ciò che ha detto agli inquirenti tanto che chiede a suo marito perché si è uscito quel sabato a quell'ora e cosa si è andato a fare Nico intanto continua a tacere negando ogni sua partecipazione al delitto Nicola e Mattia tendono a confermare una versione del delitto che vedrebbe l'adulto Giovanni come ispiratore e istigatore ma quest'ultimo nega ogni coinvolgimento continua a dirsi estraneo alla vicenda questa è la sua parola contro quella di due ragazzini minorenni arriva il 9 dicembre del 2002 ed è in programma l'incidente probatorio e in questa occasione sia Nicola che Mattia danno una ricostruzione dei fatti in cui è pienamente coinvolto anche Giovanni Erra Giovanni Erra è presente con il suo avvocato di conseguenza chiede al GIP che sta svolgendo l'incidente probatorio di essere sentito anche lui in contraddittorio perché intende contestare ciò che i minori stanno dicendo di lui anche in questo caso Giovanni Erra sostiene di non sapere nulla si dimostra incredibilmente sicuro quasi sfidando il GIP infatti quest'ultimo fa delle contestazioni a Giovanni e ad un certo punto con una faccia tosta che difficilmente riesco a immaginarmi l'uomo risponde al GIP beh e lei le provi queste contestazioni le provi ma c'è un'altra cosa di Giovanni Erra che proprio non torna in quanto ha sostenuto di essere un appassionato collezionista di coltelli quindi di conseguenza gli viene chiesto se per caso quei coltelli li possiede ancora ma Giovanni risponde che non ce li ha più ha deciso di disfarsene un paio li ha regalati uno l'ha buttato nel cassonetto sotto casa sua ma perché Giovanni ha gettato quel coltello nel cassonetto? Perché si è affrettato a regalare i restanti coltelli? Giovanni spiega che temeva gli venisse addebitata qualche responsabilità per la morte di Desiree ma le cose anche in questo caso non tornano affatto ragionandoci due secondi emerge che Giovanni Erra si libera di quei coltelli prima che il corpo di Desiree sia ritrovato dai carabinieri perché mai Giovanni prova questo timore dal momento che coloro che non avevano partecipato al delitto erano convinti fosse andata in giro per i fatti suoi? nessuno ha la certezza che Desiree sia morta nel momento in cui Giovanni si libera di quei coltelli e infatti è proprio qui che casca l'asino Giovanni Erra cade in una trappola scoppia a piangere si rende conto che tutto il suo castello difensivo è crollato inesorabilmente ma non si arrende semplicemente decide di nuovo di cambiare versione Giovanni dice che è vero lui quel sabato durante quel crimine era presente ma non ha ucciso nessuno Giovanni racconta che quel sabato 28 settembre nel pomeriggio arriva a Cascina Ermengarda sono circa le 15 e 30 e qualche sera prima ha ascoltato Nico Nicola e Mattia pianificare la violenza su Desiree ecco perché Giovanni era quel pomeriggio si avvicina alla Cascina vuole capire cosa stia succedendo racconta quindi che una volta arrivato in Cascina è salito al primo piano e ha visto chiaramente Nicola sopra Desiree mentre Nico e Mattia le immobilizzano per le braccia Giovanni precisa che è un insulto di Desiree rivolto a Nicola a provocare la prima coltellata sferrata dal ragazzo Desiree infatti si gira verso Nicola e gli urla mi fai schifo Giovanni davanti a questa scena sostiene di non aver capito più nulla e quindi di essere scappato a gambe elevate poi ecco che avviene un'ennesima retromarcia infatti nel confronto successivo Giovanni ritratta dicendo di nuovo di non essere mai stato in quella Cascina per alcuni aspetti Giovanni sembra sincero poi però continua a ritrattare la sua versione rendendo al suo avvocato difficile anche solo creare una linea difensiva davanti alle ritrattazioni di Giovanni Erra e alle versioni discordanti dei ragazzini gli inquirenti si rendono conto di non avere assolutamente in mano una precisa ricostruzione dei fatti che hanno portato alla dipartita di Desiree chi ha fatto cosa? chi ha materialmente sferrato le coltellate? chi ha immobilizzato la vittima? in quale parte della Cascina hanno iniziato a colpirla? qui entra in gioco Luciano Garofano il colonnello dei RIS di Parma i RIS devono stabilire se il delitto è venuto per opera di una sola persona oppure se c'era stato un accordo una condivisione nell'aggressione nell'uccisione di Desiree di conseguenza i RIS analizzano tutta la scena del crimine arriva gennaio 2003 e Luciano Garofano deposita in procura i risultati dei rilievi condotti sulla scena del crimine ma quindi ricostruiamo insieme per l'ultima volta questa storia ghiacciante tutto inizia giovedì 26 settembre del 2002 a Leno quando i ragazzini Nicola Bertocchi Mattia Franco e Nico Vavassori progettano di far violenza su Desiree Giovanni Erra l'adulto del gruppo è lì presente ed ha ai tre ragazzi la sua bidetizione dicendo che in effetti Desiree è una tipa facile di conseguenza non ci saranno problemi Giovanni quindi dice ai tre ragazzini di chiamare Desiree o di scriverle un sms proprio col fine di organizzare un appuntamento Giovanni aggiunge anche che Desiree è una tipa comunque condiscendente e conclude dicendo ai ragazzi voi andate io magari vi raggiungo sì ma più tardi prima domanda che mi sorge spontanea ma se questa ragazzina Desiree fosse stata davvero una ragazza aperta nel fare nuove esperienze che bisogno c'era di portarsi dietro un coltello e delle fascette autobloccanti arriva il 28 settembre e Nicola con la scusa di volerle far vedere una cucciolata di gattini attira Desiree alla cascina Desiree non lo teme però sa che è un ragazzo poco raccomandabile quindi Nicola e Desiree arrivano alla cascina salgono al primo piano dove per l'appunto avrebbero dovuto esserci questi gattini ma al posto dei gattini ci sono Mattia e Nico che hanno per l'appunto in mano delle fascette autobloccanti e delle corde con cui ben presto legano Desiree ed è a questo punto che non è del tutto chiaro cosa sia successo inizialmente a Desiree i ragazzi sostengono di averla umiliata derisa offesa e colpita con schiaffi e pugni Desiree a questo punto si gira verso Nicola il ragazzo che l'ha palpeggiata di più e che in ogni caso l'ha tirata in quella cascina per poi urlargli mi fai schifo è a questo punto che Nicola si arrabbia e sferra il primo colpo di coltello Desiree a questo punto riesce ad alzarsi prova a scappare ma Giovanni erra purtroppo è già lì pronto a prenderla appena Giovanni riesce a bloccarla Nicola di nuovo la colpisce per due volte dietro la schiena e poi ci sono i rilievi dei ris che sono lampanti sul davanzare della finestra dell'ultimo piano ci sono delle gocce di sangue purtroppo quelle gocce di sangue testimoniano che Desiree ha provato a salvarsi buttandosi nel vuoto anche in questo caso viene bloccata le vengono quindi inferti gli ultimi due colpi mortali al collo è così che viene a mancare arriva il 19 marzo del 2003 siamo al tribunale dei minori di Brescia dove il processo a Nicola Mattia e Nico inizia il 9 aprile i tre imputati assistono alla lettura della sentenza in silenzio e senza avere alcuna reazione dopo tre ore e mezza di camera di consiglio la sentenza condanna a vent'anni di carcere Nicola ritenendolo l'autore materiale del delitto a 18 anni Nico che si è sempre detto innocente e a 10 anni Mattia il più giovane colui che ha permesso agli inquirenti di costruire tutto il castello accusatorio sino a coinvolgere Giovanni Erra è adulto del gruppo che invece viene processato a giugno in appello i ragazzi riescono a ottenere una lieve diminuzione della pena Nicola viene condannato a 18 anni Nico a 15 mentre per Mattia si conferma nei 10 anni di reclusione Giovanni Erra affronta i suoi processi separatamente essendo adulto e li affronta con degli show che sono stati definiti realmente patetici fa sceneggiati in aula si mette a piangere urla chiede pietà si dice pentito arriva quindi il 27 giugno del 2003 e Giovanni Erra viene condannato al massimo della pena ergastolo il giudice conclude che Giovanni Erra sia un istigatore uno che con la sua personalità ha condizionato gli altri proprio perché ha 36 anni è molto più grande degli altri ragazzini ma quando nel 2004 il processo passa alla corte di assise di appello di Brescia le cose cambiano perché l'ergastolo si trasforma in 20 anni di reclusione in quanto la corte d'appello seppur credendo che Giovanni Erra fosse presente nel momento del delitto aveva dato alla sua figura un ruolo totalmente marginale un ruolo di uno che non era intervenuto ma non aveva neanche aizzato nessuno insomma Giovanni Erra era semplicemente rimasto lì come spettatore in Cassazione però la posizione di Giovanni Erra cambia di nuovo infatti interviene il procuratore generale Francesco Nuzzo che presenta un ricorso contro la sentenza di secondo grado il tribunale supremo accetta il ricorso e rimanda Giovanni Erra a processo i parenti di Desiree a questo punto sperano nell'ergastolo ma la corte di assise di appello di Milano condanna Giovanni Erra a 30 anni oggi l'unico ad essere ancora in carcere è Giovanni Erra mentre Nico Vavassori Mattia Franco e Nicola Bertocchi sono liberi detto questo ragazzi ho finito di sproloquiare in questo video spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento fatemi sapere se conoscevate questo caso e che cosa ne pensate ovviamente di questo caso lasciatemi un commentino qui sotto e scrivetemi quello che volete insomma noi ci vediamo prestissimo al prossimo video vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi